Abbiamo quasi concluso, ci sono due microinterventi, uno che non era neanche previsto ma visto che è in sala. Vi ricordate la prima slide, quella della finanza? Io ho detto conversate, ecco conversate. Io vi chiamo Alessandro Vitale, sono il founder di Conversate. Conversate è una piattaforma di intelligenza artificiale per la comprensione del linguaggio, quindi qualcosa tipo quella che vi è stata spiegata poco fa, che si può utilizzare e insegnarlo per costruire il campo di interfacce conversazionali. Siamo principalmente attivi in banche e assicurazioni e in parallelo alla piattaforma stiamo facendo dei white labels per rendere più semplice alle varie aziende adattare i chatbot e le loro esigenze e partire più velocemente. In particolare lo stiamo facendo con una serie di partner, con uno specializzato nel proprio settore, ne abbiamo già fatti quattro, il primo pubblico è quello con Deus Technology. Deus Technology è un'eccellenza di Milano, è un'azienda che fa RoboAdvisor White Label, quindi hanno l'API per fare il portafoglio di investimento alle persone, quello che fanno, loro vendono alle banche l'API, poi la banca si fa l'interfaccia utente per il proprio RoboAdvisor. E insieme lo stiamo facendo integrando le loro API a questo mostro di chatbot, di modo che ci sia questo chatbot white label che possono usare le banche o gli servitori finanziari, che può sostituire un po' il consulente finanziario, che fa all'inizio una sorta di miti per capire il tuo profilo di rischio, e poi ti comincia a proporre degli investimenti, per cui fargli delle domande, interagire fino a poi investire i soldi, e invece di farlo con un'API, o magari con dei dashboard un po' più freddi, puoi farlo via chatbot e gli puoi fare anche le domande che magari, o per timidezza o per altri motivi non faresti a qualcuno un tip, ma qual è il rischio, ma perché devo investire in questo invece che in quest'altro, qual è l'inferenza di un bond rispetto a un titolo, tutte cose di questo tipo, e anche questo è il comunicato, e adesso lo stiamo cominciando a proporre a vari clienti. Prendo anche un solo minuto, abbiamo una posizione aperta per uno spinopattore uno JS, la tecnologia è abbastanza spinta, però se volete una sfida, la dopo è accadibile. Qual è il sito? Conversate? Conversate, si chiama? conversate, 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 grazie.